Cucù mesami, bentrovate e bentrovati video shopping pensando al mare. Con questo caldo sono già proiettata sulle mie vacanze mare, mare, mare anche quest'anno. Mi dispiace, la montagna attenderà. Sono andata allo shopping di Brugnato dove ci sono dei saldi pazzeschi, saldi sui prezzi outlet. E da Golden Point dove ultimamente compro i costumi, mi trovo bene. Ce n'era uno bellissimo da Calzedonia, tutto diamantato in edizione limitata. Se trovo la foto ve la lascio a lato, però ovviamente non ho preso perché era intero, perché costava un sacco di soldi. C'è la promo da Golden Point, almeno in questo outlet del 5 più 1, quindi ritornerò sicuramente. Ero di corsa perché ho accompagnato Filippo ad un campus estivo e mi sono presa un costumino giallo che mancava nella mia collezione. Molto semplice, reggiseno con ferretto che costava 24,95 e meno 7,50 di sconto. Slip a fianco basso, era apprezzato 9,95 e meno 3 euro di sconto. Fate voi, sempre con questa fantasia anni 70 vintage in taglia M ed è lunghissima. Quindi per quanto riguarda il seno va bene. Tra l'altro si può anche chiudere tirando questi laccetti e farlo diventare proprio un prendisole con il reggiseno modellato. Dietro vedete a questo gioco di elastici, come ci piace tanto ricordare anche dei vestiti prendisole estivi. E questa fantasia lunghissima è 100% viscosa. Allora c'è stata un po' di polemica sulla viscosa. La viscosa è comunque una fibra naturale, viene prelevata dalla cellulosa del legno che, confermate, essere vegetale, che poi la lavorazione sia inficiata dai macchinari artificiali. È altro discorso, però è 100% viscosa. Quindi ribadiamo, deriva dalla cellulosa del legno. Arriviamo dai intimissimi dove ci sono i saldi al 50% su tanti capi e andate nei negozietti meno battuti dove si fanno ovviamente degli ottimi sconti. Ho preso anche dei prodotti in saldo, ma sono rimasta folgorata dalla fantasia e da questa camicia da notte che io ho già indossato come abito con un paio di sandalini bianchi. Anche qui siamo in presenza di 100% viscosa, leggerissima, freschissima. Mi dispiace che la vedete stropicciata, ma l'ho già indossata in taglia L in tutta la sua bellezza. L'avevo appena acquistata, è uscita un'altra fantasia bellissima che vi lascio a lato. Il prezzo qui è comunque intero. Non riescono mai a tenere l'assortimento completo perché ci sono anche dei pantaloncini, una canottina, un kimono, ma secondo me questo vestito d'estate, almeno io questi vestiti estivi di intimissimi, li indosso sia a lavorare, sia la sera in vacanza, sia la sera quando usciamo, sia durante le giornate calde perché sono fibre leggere. Come vi dicevo qui nel video, di 5 consigli per affrontare questo caldo tropicale. Con i saldi al 50% ho approfittato per comprare tutte queste magliettine che prezzate, non vengono 20 euro, ma ve le portate a casa alla metà del prezzo. Come vedete queste sono delle basiche. Qui la lavorazione è quel modal, se non ricordo male, è una struttura del tessuto particolare, manica lunga nera, manica lunga blu, canotta blu, è la supima, esatto, è un materiale particolare, leggerissimo, è anche molto trasparente. Poi ho preso questa variante che va bene anche da portare non solo a settembre, nel periodo invernale, come sottogiacca e c'erano da abbinare anche tutti questi cardigan che poi potete intrecciare avendo questa parte finale così appuntita, incrociare e annodare. canotta bianca cioè questi sono pezzi che al 50% ma neanche a lasciarli lì servono, servono sempre. Avevo poi una cerimonia e cercavo un body modellante da indossare sotto un vestito molto chiaro quindi cercavo una tonalità color carne un body strutturato quelli di intimissimi non mi garabbavano e mi sono buttata su Skims di Kim Kardashian ho preso questo color non è proprio carne sembra un cipria io ho preso la taglia L è lavato ho già indossato hanno la particolarità di avere l'apertura nella parte sottostante del body riesce a contenere anche un seno come il mio io ho preso una L perché la M era improponibile da indossare anche questo ovviamente è un po' difficoltoso ma vi devo dire che vi modella benissimo vi sostiene le natiche avete anche le bretelline che io non ho utilizzato perché avevo il décolleté scoperto vi regge molto bene non ha elastici per sostenere e vedete vi modella tutte le forme non vi stringe a mo' di salsiccia anche se avete dei rotolini delle maniglie dell'amore non segue l'andamento delle vostre forme ma vi pialla come se fosse un filtro è una cosa pazzesca io non ci volevo credere sono 88 euro perché ho pagato 88 euro spesi benissimo vi fa una figura perfetta vi contiene mi ha talmente convinto l'effetto che ho visto sulla mia corporatura sul mio corpo avendo anche comprato in passato diversi body piallanti io non so che fibra sia ma è veramente performante vi modella senza segnarvi senza stringervi eccezionale è veramente eccezionale andrò sul sito perché sono curiosa a questo punto di provare almeno un abito per vedere come cade bene amici con questo caldo africano ora vado a fare un tuffo al mare io vi saluto e ci aggiorniamo con il prossimo video magari dedicato ai salvi ciao ciao